Ortopedia, distorsione del ginocchio. Allora, distorsione del ginocchio è una lesione capsulo-legamentosa spesso correlata a traumi indiretti che vanno a modificare i rapporti articolari. Questi traumi sono dovuti per esempio a alcuni sport dove si cambia spesso posizione, direzione, come immaginiamo chi scia, per esempio chi fa calcio, basket, queste variazioni delle direzioni spesso causano un trauma lesivo a livello del ginocchio. E poi sorge anche in incidenti stradali, più raro però può esserci. Inoltre, l'età media è 20-30 anni, anche perché questi traumi sono di origine sportiva, quindi per forza più frequente in queste fasce di età. Di solito abbiamo vari tipi di distorsioni, vedete come frequenza, soprattutto il ginocchio e la caviglia o quello del piede sono i più frequenti e poi anche nel gomito, forse un po' più, questi nei pallavolo, pallamano, pallannodo e poi dita e rachide. La classificazione in tre gradi è molto semplice perché nel primo grado abbiamo una semplice distrazione o distorsione di alcuni fasci. Nel secondo grado c'è una lacerazione legamentosa parziale, nel terzo grado è totale questa lacerazione legamentosa oppure c'è una avulzione legamentosa. Come possono avvenire però i traumi? Allora i traumi avvengono in vario modo, vediamo se riesco a racchiuderveli tutti insieme, spero che si vede, comunque sono di vario tipo. Abbiamo dei traumi in valgo o valgismo flesso extra rotazione, quindi valgismo flessione e rotazione esterna, in cui c'è una sollecitazione in valgismo del ginocchio in flessione e la tibia extra rotata. Ok? Quindi la tibia extra rotata e il ginocchio viene sollecitato in valgismo e flessione. E quindi in questo caso, immaginate di fare questo movimento, verrà sollecitato prima il collaterale interno, poi si lacera il crociato anteriore e poi il punto angolo postero interno. Mentre se abbiamo un trauma in vario flesso rotazione interna, quindi abbiamo il ginocchio in flessione, una sollecitazione in varismo, poi una ginocchio in flessione, la tibia intra rotata, ovviamente il crociato anteriore con questo movimento andrà ad avere una lesione, una distorsione e in particolare questo può essere dovuto a un salto, a un cambio di direzione. Poi un trauma in varismo a ginocchio esteso o in valgismo. In valgismo, quindi abbiamo la rottura dei legamenti crociati, sia anteriore che posteriore, in varismo, oltre ai crociati, anche una lesione al punto angolo postero esterno. Mentre la lesione del crociato posteriore si ha quando c'è un trauma di iperestensione. Vedete il calciatore che ad esempio manca la palla e porta in iperestensione il ginocchio. Dobbiamo dire che per valutare la distorsione dobbiamo fare ricorso alla semiotica. Innanzitutto abbiamo la differenza tra lassità e instabilità. La lassità è data da un aumento della mobilità articolare senza rilevanza clinica, predispone all'instabilità e si può compensare con un tono e una forza muscolare che non andiamo ad aumentare. Mentre l'instabilità è dovuta ad una incontrollabile mobilità e il dolore è dovuto all'usura dell'articolazione, delle capsule e dei legamenti. Abbiamo vari test. Allora, partiamo dai test. Vedete, io ho messo dei test di lassità e di stabilità. Dove vedete le L, vedete, test di abduzione, valgismo, c'è una L, significa che ho un test di lassità. Quindi il valgostress o il test di abduzione in valgismo è un test in cui io, per esempio, metto la mano sulla gamba e la porto verso l'esterno e l'altra mano sulla faccia esterna del ginocchio. Questo test si fa sia in flessione che in estensione a 30 gradi e quando vedo una abnorme valgizzazione molto probabilmente è perché il papi, quindi il comparto interno, ha una lesione. Poi se ancora di più questo valgismo accentuato è ancora più grave ci può essere pure una lesione del crociato anteriore. Inoltre, se notiamo una positività all'estensione, invece, perché noi facciamo il test sia in flessione che in estensione, quando è positivo il test in valgismo ed estensione allora ci può essere una rottura del crociato posteriore. Il test di abduzione, invece, in varismo è il contrario. Quindi, vedete, le mani sono messe all'inverso. Quindi spingo la gamba verso l'interno e quello che accade è che se ho un'abnorme in varizzazione c'è una lesione del punto angolo postero esterno. Anche qui, se c'è una positività in estensione, la lesione avviene nel legamento crociato posteriore. Poi abbiamo il test del cassetto anteriore. Perché si chiama così? Perché, guardate come, non so se si vede bene il disegno, però, metto il paziente a ginocchio flesso a 90 gradi e con... cioè io mi siedo proprio sul piede dell'arto patologico, lo vado a bloccare, no? Quindi mantengo questo ginocchio flesso a 90 gradi e faccio delle manovre sia in posizione neutra, in intra-rotazione ed extra-rotazione. Io sostanzialmente sollecito l'estremità superiore della gamba portandola verso di me e vedo che c'è una sublustrazione anteriore, ok? Quindi dell'estremità prossimale, ovviamente, della tibia rispetto con i livelli femorali. Proprio lo tiro, questa tibia, come se tirassi la tibia come un cassetto e quindi si chiama test del cassetto anteriore. E di solito, come faccio a capire dove è localizzata la lesione? Quando la lesione è nel crociato anteriore, la positività si ha in extra-rotazione, mentre, per esempio, se il test è positivo in posizione neutra, allora sarà coinvolto il crociato anteriore, il pati e il legamento capsulare. Mentre, se la lesione intacca il crociato posteriore, di solito la positività si ha in intra-rotazione. Questa manovra, tuttavia, non sempre viene usata da tutti, tant'è che adesso esiste anche il test di Lachman, che per le lesioni di crociato anteriore è molto valida, più utilizzata di solito. Poi abbiamo di contro il test del cassetto posteriore, spero che si legge bene, perché purtroppo l'applicazione mi ha un po' modificato i colori, però comunque è importante che si capisce l'immagine. Quindi il test del cassetto posteriore è al contrario, io vado a sublussare posteriormente l'epifisi prossimale della tibia, rispetto ai condili femorali, e se va a sublussare posteriormente, di solito la lesione viene nel crociato posteriore. Vi suggerisco anche, se volete, guardate dei video, infatti ci sono molti video interessanti in inglese, in italiano, in qualsiasi lingua, perché si capisce ancora di più, forse, come si fa il test, più dal vivo e con approccio più reale. Poi abbiamo il test di Lachman, che è un test in cui con una mano afferro il terzo prossimale della gamba e con l'altra fisso la coscia. Anche questo è un test di lassità e il ginocchio viene mantenuto a 30 gradi in flessione. Il test è positivo quando la tibia va a sublussare anteriormente di 5 mm ed indica una lesione nel crociato anteriore. Adesso parlerò di alcuni test che sono invece di instabilità, che sono il jerk test, il pivot shift e il test di gravità. Il jerk test è un test in cui io mantengo il ginocchio flesso a 90 gradi e l'anca flessa a 45. L'esaminatore cosa fa? Quindi va a intrarotare la tibia e andurre allo stesso tempo un valgostress. Quando vado ad estendere il ginocchio a 30 gradi di flessione sento un click e quindi estendendo il ginocchio a 30 gradi in flessione sento il click e vuol dire che c'è stata una sublussazione anteriore del piatto tibiale laterale. E di solito questo mi indica una positività per il legamento crociato anteriore. Poi abbiamo il pivot shift test in cui l'esaminatore intraruota la tibia sempre con un valgostress concomitante. E il test in questo caso parte da un'estensione completa viene flesso lentamente il ginocchio poi mano a mano quello che accade è che con l'estensione il piatto tibiale sublusta anteriormente. A 30 gradi in flessione inoltre si riduce posteriormente perché c'è la fascia lata che va dietro al centro di rotazione che tira indietro quindi il piatto tibiale. E qui c'è una positività al crociato anteriore. Poi abbiamo il test di gravità infine che si fa in decubito subino questo si può fare con un piano rigido mettendo i calcani sul piano rigido con le anche ginocchia flesse a 90 gradi c'è chi usa invece del supporto anche delle mani tenendo sempre le anche ginocchia flesse a 90 gradi. La positività è quando c'è una sublustrazione dell'epifisi prossimale della tibia sotto l'azione appunto della gravità. Questo indica una lesione del crociato posteriore. Qui ho messo una serie di invece così altre cose importanti che vanno valutate perché possono essere utili nella distorsione. Ci sono gli Ottawa Rules dove il RX, un paziente in distorsione con un'età maggiore di 55 anni valuta un dolore alla testa del perone oppure isolato alla rotula e ha una flessione impossibile oltre 90 gradi e una deambulazione impossibile al carico. Questi sono i parametri che valuto. Poi c'è anche una triade chiamata sfortunata perché è particolarmente dolorosa oltre che insomma grave anche dal punto di vista anatomostrutturale del ginocchio perché la lesione viene sia nel crociato interiore che nel collaterale interno che nel medisco mediale. E infine ci sono negli sciatori per esempio delle lesioni del collaterale e del crociato anteriore chiamate phantom lesion in cui il lasciatore in questo caso perde l'equilibrio e porta il baricentro indietro e il suo ginocchio quando immaginate porta il baricentro indietro scusate qua per i rumori il ginocchio ruota in maniera opposta alla direzione sua fisiologica. Dal punto di vista clinico allora nella clinica l'anamnesi è importante e soprattutto i sintomi quali possono essere dolore, dolore alla palpazione nella parte mediale o laterale e dolori possono essere però assenti se per esempio c'è stata una lesione nervosa delle terminazioni esterocettive e quindi non c'è dolore però in realtà la distorsione c'è. I sintomi obiettivi quali sono? Tumefazione e versamento questo è importante perché se io ho un paziente che subito ha una tumefazione o un versamento di solito è un emartro perché c'è una lesione legamentosa sicura mentre se dopo 15 giorni compare ad esempio un versamento spesso può essere liquido sinoviale quindi un idrato e all'altro centesi anche posso trovare un aspetto brodo di pollo perché ci sono delle gocce lipidiche che indicano una frattura dell'emipiatto e questo poi valuto ovviamente se c'è la presenza di versamento anche col test del ballottamento rotulio quindi premendo sulla rotula e ballottandola appunto poi con trattura taggica in flessione a 20-30 gradi in potenza funzionale e di stabilità articolare talvolta in fase acuta il test può essere difficile perché c'è dolore c'è la contrattura e quindi di solito o si rinvia il test o c'è chi fa l'anestesia e fa lo stesso il test questo è un po' di scapito del diciamo varia da esaminatore esaminatore insomma poi abbiamo gli esami strumentali l'Rx mi serve per escludere fratture l'eco mi serve per valutare i collaterali quindi perché ovviamente possiamo vedere subito con l'ecografia se ci sono rotture dei legamenti collaterali mentre se devo valutare i menischi o i crociati uso sicuramente la risonanza magnetica o la TAC poi qui ho messo le complicanze che sono immediate o tardive immediate sono le fratture dell'impiatto tibiale e le spine tibiali quindi per tale motivo vado anche a fare l'Rx quelle tardive sono in stabilità per lesione del cruciato anteriore oppure la calcificazione del legamento collaterale nella sua estremità prossimale e questa calcificazione è dovuta a una disinserzione del legamento dal condilo mediale chiamata anche sindrome se vogliamo così dire di pellegrini stieta il trattamento può essere innanzitutto medico perché si usa il metodo RISE cioè REST ICE Compression Delevation io qua l'ho scritto un po' in italiano un po' in inglese però R sta per riposo quindi perché evito i danni I sta per ICE quindi ghiaccio perché il ghiaccio riducendole su dallo e la fasocostrizione quindi riducendo la fasocostrizione è un antinfiammatorio quindi riduce l'essudato e facilita la fasocostrizione poi abbiamo la compressione perché riduce il versamento blocca i microsanguinamenti l'elevazione perché ovviamente levando l'arto aumenta la meglio si riduce la pressione quindi faccio drenare più essudato e riduco il versamento poi il trattamento medico prevede anche una profilassia antitrombocitemica antinfiammatoria e antidolorifica vado a ricercare i polsi periferici vabbè e poi l'esame neurologico perché ci può essere lo sciatico grido esterno che viene leso lesionato poi trattamento ortopedico vabbè qui diciamo un po' un riassuntino poi infatti dopo diremo tutte le varie tecniche quindi trattamento conservativo si fa negli anziani o lesioni lievi chirurgico nei giovani o lesioni gravi le lesioni lievi vengono trattate con il vendaggio elastico quelle gravi con artrocentesi se c'è versamento e poi si utilizza un gesso una ginocchiera per immobilizzare nelle lesioni meniscali chirurgia nelle lesioni centrali quindi del crociato anteriore si ricorre alla chirurgia ora vediamo un po' spero che si capisce purtroppo a volte devo scrivere anche un po' veloce niente partiamo dal crociato collaterale mediale scusate prima si operava adesso non più a meno che non c'è proprio una lussazione quindi faccio un trattamento conservativo se c'è un ginocchio soprattutto in varismo quindi metto un gesso con ginocchio flesso a 30 gradi andando a detendere il collaterale mediale e si ha una cicatrizazione dopo 3 settimane quindi diciamo che nel collaterale mediale il trattamento è conservativo nel collaterale esterno invece il trattamento è chirurgico esploro il nervo sciatico per vedere se ci sono delle anomalie e riparo poi il legamento eventualmente con ancorette con delle viti la chirurgia invece anche viene utilizzata nelle lesioni del legamento crociato anteriore di solito nella fase acuta è meglio la chirurgia perché possiamo avere delle complicanze come le lesioni meniscali o cartilagine che viene lesa perché queste poi possono portare a un'instabilità articolare di solito comunque quando non abbiamo la rottura del crociato anteriore e del collaterale esterno si può avere un'instabilità mentre se abbiamo una rottura del collaterale mediale c'è un basso rischio assente di instabilità mentre si ricorre alla chirurgia spesso se il test GERC è positivo mentre non si ricorre se il lacman è negativo in artroscopia cosa possiamo fare praticamente possiamo prelevare un pezzo autologo di tendine dal rotulio dal gracile insieme al semi tendinoso adesso esistono anche dei legamenti sintetici comunque questo prelievo di legamento poi viene preso sto parte di legamento è portato nel ginocchio è fissato con delle viti alla tibia in basso e al condito in alto mentre per quanto riguarda i menischi qui ho fatto una piccola così introduzione anche perché poi parleremo delle lesioni meniscali si può fare la menisco pessi dove si sudura il menisco e le strutture capsulari ricordando qui ho scritto solo un cenno che il menisco di solito ha una parte avascolare una vascolare quella vascolarizzata all'esterno di solito si ripara da sola e non c'è bisogno di fare in realtà la chirurgia mentre se la lesione è più interna si fa la chirurgia poi come vedremo in realtà nelle lesioni meniscali vi faccio così un piccolo spoiler abbiamo di solito la menisco pessi viene fatta in casi un po' più gravi se no si può fare anche la meniscectomia cioè si toglie una parte di menisco per via selettiva oppure quella totale dipende ovviamente da quello che accade quella selettiva di solito si fa se c'è una parte più interna più lesionata mentre quella totale soprattutto nel menisco esterno e degenerazione cistica comunque per quanto riguarda il menisco faremo un video su le lesioni meniscali e lì tratto la meniscectomia e la meniscopessi in maniera un po' più chiara anche per questo è tutto spero che gli argomenti sono chiari sono abbastanza complessi devo essere sincero però è importante che qualcosa sia rimasto per qualsiasi chiarimento dubbio o correzione commentate l'unico